io vedo io lui fa spingere il passo bloccato il braccio sul cibo testa qui che guarda lui e spinta le geste e lui qui già si chiede da questa cosa e poi sono pronti ok quindi se sbagliare nel momento in cui noi approfittiamo e la stessa cosa anche quando non sta qui quanto volte vanno questo braccio 24 4 ore 90 ore approfittiamo di questo per l'ultimo riportaggio e dopo non scende insieme a tutti ok proviamo per esempio le cose che comunque fanno parte della stessa cosa più che altro non dobbiamo non dobbiamo di pensare di questa cosa di portarci e non è normale è una patente adesso questo problema qui questo è questa qua questa qua è cambiata quindi non proviamo a farlo questo è per la questa qua è difficile vale la via a dentro il braccio c'è la per dire ecco perché è importante questa qui perché stiamo a da dentro qua sto finito ok è la è la è ok Grazie.